Il matrimonio necessario Il matrimonio necessario è sicuramente possibile Possibile sicuramente Assolutamente direi necessario Necessario ma difficile Secondo me è necessabile Il matrimonio auspicabile Il matrimonio l'idea importante della sociale, cerco confronti, credo che questo sia il posto corretto, giusto, e credo che prima di partire molto veloce, come ho fatto su altre iniziative, sia importante, soprattutto in un settore così non sempre semplice e tangibile, arrivare in un processo di confronto con altre persone e con altre imprese, soprattutto con le situazioni. Speriamo molto che questa cosa delle polizie mobile sia una cosa fondamentale, non solo importante, ma fondamentale del territorio, quindi poter riuscire a creare sinergia, a creare contatti, anche come dicevate voi, tra persone che magari non si sarebbero mai incontrate. Oggi io ascoltando, sono venuta qui con aspettative molto basse perché avevo un po' più e invece poi ascoltando le persone ho scoperto che potevano avere molti punti in cura, più di tanto. Ide e collaborazioni. Tampine, tanti punti. L'opportunità di assicurare anche un network, perché noi in internet non è l'esperituzione di un corinese, di Montarence, quindi l'opportunità di anche creare il network e d'altra parte di trovare alcune competenze che magari non è un altro territorio, insomma, è un po' più che è quello che mi insegna. L'opportunità di competenze tecnologiche che hanno i bancari. In questo momento posso avere molte idee, è sicuramente qualcuna fattibile, c'è molta creatività, molta fermento. Ho trovato delle possibilità di contatto interessanti e un altro taglio di confronto. Hai tutti gli incontri one to one fatti fino ad adesso o c'è mostrato degli interessi che ci sentiamo? Sicuramente è un grande fermento e un'attenzione invece dato, prese ai SISB, a questo mondo che viene anche qui visto un po' con degli schemi che proprio incontri come questo consente di superare partendo da degli stereotipi che il sociale fa del bene, il sociale fa delle cose belle e il sociale fa anche delle cose complesse, a volte cambia anche dei paradigmi e è in grado di ragionare su questo e questa è una giornata che viene da sentire delle contaminazioni sicuramente molto più.